Dove eravamo rimasti? Se non avete visto il video speciale 1000 iscritti, quello dove annuncio questo progetto, vi lascio in descrizione il link per andare a vederlo poi con calma. Eravamo rimasti comunque al costruire una moto da corsa, una moto per le corse in salita. Quindi l'obiettivo di questo inverno è di raccattare tutto quello che è raccattabile dal magazzino e vedere cosa si riesce a tirare su. Quindi direi, ciancio alle bande, come si suol dire, tiriamo sul direttano dal divanetto di Brazzers e andiamo in magazzino a vedere cosa riusciamo a raccattare. Ti ricordo che se ti piacciono i miei video e vuoi supportare il canale puoi farlo iscrivendoti cliccando sull'icona rossa lì in basso alla tua destra, è gratis, mi farebbe molto piacere. Diamo un'occhiata. Allora, già qua c'è della robina interessante. C'abbiamo un holis che è questo tornautile sicuramente per il posteriore. Qua abbiamo delle pinze freno. Un bel volano alleggerito. Io preferisco alleggerire gli originali, però vabbè c'è già questo. E useremo questo per dare un po' di brio al motore. Poi, va bene, regolatore di tensione, delle pinze freno da lavare e revisionare perché sono un disastro. Un altro regolatore di tensione, una piastra di sterza abbastanza oscena. Questa mi sa che non la uso perché non mi piace per niente. Poi, 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 questa la partiamo di là. La mettiamo qua. In quest'altra cassetta un indizio mica male. Un redattore dell'acqua. Un coppo farfallato. Anche questo qui sarà da lavare oltrasuoni, pulire, sistemare, brigare perché è un disastro. La piastra di sterza inferiore. Questa potrebbe tornare utile. Magari con i cuscinetti nuovi perché queste non pena. Poi, uscenità assurda. Recupero dei vapore dell'olio? No, direi che non serve. Poi, dei semi manubri. Quei blocchetti luce che non servono neanche questi. Quindi, non so che farmi di sta roba. Va bene. Vediamo se c'è qualcosa altro interessante. Ma, cablaggio e impianto elettrico. L'impianto elettrico, tanto lo farò da zero. Quindi, magari, lo uso come base di partenza per modificarlo. Non mi servono né le luci, né le frecce. Non mi serve praticamente quasi niente. Metterò un dashboard, quindi, ci porterò giusto i segnali che mi servono. Giri, se possibile, contamarce. Va, la spedera riserva non servirà. E l'errore centralina, ecco, magari quello ce lo portiamo che può tornare utile. Le mettiamo qua in pigna anche questa cassetta. Vediamo, andiamo avanti. Un altro radiatore dell'olio. Da lavare assolutamente anche questo, perché fa schifo. Però, mettiamo da parte. C'è già un bel po' di indizi. Tra un po', vi spiego cosa mettiamo insieme. Vediamo un po', se abbiamo la roba abbastanza. Sì, ma mi stavo dimenticando il pezzo forte. Questo qui è il pezzo forte. Mi piace una spalla che non risponde. La vecchitudine. Oh sì, è un terraio Ducati, quindi la base di partenza sarà Ducati. Ebbene sì. Esatto, terraio Ducati. Questo è un terraio di un Monster 900, di quelli ancora carburatori, con l'archetto posteriore, per intenderci. E' un peccato che si è già verniciato. E' verniciato perché doveva fare una roba a un amico e avevo fatto qualche modifichina a questo telaio, l'abbiamo fatto verniciare, poi il progetto è stato abbandonato e insomma ho ritirato io, in cambio di favori non sessuali, il telaio e qualche altro componente di questo telaio. Quindi la base di partenza è questa. Purtroppo dovrò tagliarlo e cercherò di danneggiare, di rovinare il meno possibile la verniciatura perché vorrei che questo progetto mantenesse una sua dignità estetica. Se andrà forte dipenderà dal pilota, però vista la ruggine ho qualche dubbio, quindi sarò fermo. Però perlomeno la moto deve funzionare bene, essere un po' presentabile, perlomeno, dai, almeno presentabile, almeno l'esordio, almeno. Dopo magari se sarà da conciarla, da sbattere via, poi vi dici penso io. Cioè parliamo un po' di quello che dobbiamo fare un po' più nello specifico perché sono ancora troppo sul vago. Sì, pezzi belli, interessanti, le cassette, tutto quello che vuoi. Sembra un po' una piccola novegola, tra l'altro quest'angolino qui, dopo aver tirato fuori queste cassette. Però, alla fine, cosa dobbiamo fare? Alla fine dobbiamo prendere quel telaio che abbiamo visto prima, che è un telaio Ducati, quindi un telaio Ducati Monster 900, versione carburatori, quindi versione quella con l'archetto. L'idea di base è utilizzare questo telaio, ovviamente andrà modificato, e poi montare un motore che però non sarà quello del Monster 900. Non è per cattiviera, io ho un Monster 900 del 93, quindi non è che mi dispiace la cosa, ma perché vorrei un motore un pochino più, non dico performante, ma un pochino più ubrioso e raffreddato a liquido. Questo giustifica il radiatore che ho tenuto da parte prima, perché forse l'unica pecca, se proprio vogliamo andare a trovarne una, del motore Due Valvoli Ducati, che è, a mio avviso, uno dei motori meglio riusciti dal carissimo Ingeri Taglioni, è uno dei motori su cui si è basata la storia di Ducati, degli ultimi praticamente 30-40 anni, è un ottimo motore, è un muro, forse se vogliamo andare a trovare una pecca, che però non è una pecca, ma è una peculiarità costruttiva voluta proprio da Taglioni, quella di avere il raffreddamento ad aria. Io avrei preferito, preferisco un raffreddamento liquido per questo progetto, quindi c'è un bel motore ST2 che coniuga il raffreddamento liquido con il motore Due Valvoli e le sue caratteristiche di coppia e con qualche cavallino in più. Rispetto al motore del Mostra 900 ha ovviamente la cilindrata che è un po' più alta, è un 944, anziché un 904, ha alberi a camo con un profilo diverso e dovrebbe regalare un pochino di coppia e qualche cavallino in più. Secondo me arriveremo sui 90 cavalli come motore, però non è la potenza massima che ci interessa particolarmente, ci interessa mettere assieme una moto che si possa andare a fare una barra due gare in salita, poi vabbè la porteremo anche in pista, faremo degli shakedown, la messa al punto e bla bla bla, poi quello lo vedremo più avanti. Quindi motore Ducate ST2, telaio Mostra 900, modificato come dicevo, non andrà alleggerito, tagliato, di tutta la moto vuole fare veramente una cosa che pesa poco, 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 poco. Ed è per questo che ho dei cerchi originali, ma sto cercando una soluzione più leggera, vediamo se riusciamo a provarla. Forse, 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 forse stanno arrivando, ma forse, vediamo, perché lì quando si parla dei cerchi leggeri c'è sempre da aprire portafogli e il mio è vuoto, quindi meglio di no. Vediamo di trovare una soluzione un po' economica, tra virgolette. L'ammortizzatore posteriore abbiamo un Oli, si direi che lo revisiono e ci facciamo andare bene a quello, mentre per le forcelle ancora non ce le ho. Dobbiamo capire un po' cosa fare, perché potrei recuperare una Showa, una Showa Monster, o comunque derivazione Ducati, e fanno un bel trattamento, una bella revisione, magari gli diamo una sistemata e lo facciamo lavorare come si deve. Ipotesi numero uno. L'ipotesi numero due è recuperare un avantreno, quindi magari una forcella Hollins o qualcosa che è derivazione Ducati o derivazione Apriglia, vediamo perché qui andiamo un pochino a sfiorare cifre che non vorrei proprio manco lontanamente raggiungere. Quindi, detto questo, e ora io non vedo l'ora di cominciare a montarla, al prossimo video faremo l'unione tra, o meglio, proveremo a appoggiare il telaio sul motore. Una volta che è appoggiato il telaio al motore ci sarà il forcellone, capire se le quote dell'ammortizzatore Hollins che ho vanno bene e il bilanciere va bene quello che ho, non un paio, quindi proveremo. E dopo di che comincieremo ad abbozzare in linea di massima quella che sarà la moto, molto in linea di massima. poi a seguire ci saranno tutte le altre lavorazioni. Bene, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video dove inizieremo davvero a entrare nel vivo della costruzione di questa moto. Ragazzi, non vedo l'ora, davvero, non ci sto più dentro. Purtroppo, però, i tempi sono quelli che sono, devo portare avanti l'officina e questo progetto riuscirò a farlo alla domenica, alla notte, non so, vediamo quando avrò del tempo libero. Mi auguro di riuscire a portarlo avanti con tempi abbastanza relativamente veloci. Ecco, per la primavera deve essere assolutamente pronta. Comunque, ci tengo assolutamente a ringraziarvi perché era stato presentato questo progetto come speciale 1000 iscritti. Nel frattempo siamo arrivati a superare i 2000, mi pare 2003-2004. Adesso non ricordo come qualcosa del genere. Ragazzi, grazie davvero tanto e se non sei ancora iscritto al canale, allora a questo punto non mi resta che evitarti a farlo, attivare la campanella in modo che ti arrivi una notifichina tutte le volte che pubblicherò un nuovo video su questo progetto che è quello di costruire una moto da corsa e anche sui vari video tecnici e didattici che puntualmente pubblico tutte le settimane. Questo è tutto e anche per oggi abbiamo terminato. Ora vado a ributtarmi sul divano di Brothers e magari mi faccio una birretta e rifletto un pochino su come sarà e su come andranno fatti i prossimi lavori. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!